Il mais, la principale coltivazione della pianura padana lombarda, continua ad essere assieme alla soia sotto pressione sui mercati internazionali. Il suo prezzo continua a crescere in relazione al calo produttivo che si potrebbe verificare nel prossimo anno a causa della guerra in corso tra Russia e Ucraina. Il perché è chiaro a tutti. È l'Ucraina, infatti, il principale paese esportatore di mais in tutto il mondo, nei paesi europei in particolare. Utilizzato dalle aziende agricole della pianura padana nell'alimentazione animale oltre che umana, è una risorsa ineludibile per gli allevatori di vacche da latte. L'aumento del suo prezzo sta mettendo a dura prova le imprese agricole, al pari degli aumenti dei prezzi energetici. Solo 15 anni fa il nostro paese ne produceva sufficienza per tutte le necessità locali. Ora invece ne deve importare, soprattutto dall'Ucraina, per quasi la metà dei suoi bisogni. Che fare allora per evitare una crisi pericolosa indotta dalla guerra nell'Oriente europeo? La risposta è semplice ma non di facile attuazione. Riprendere a produrne di più come si faceva in passato. Le scelte operate dalla comunità europea in tema di politica agricola vanno nella direzione opposta con la destinazione di vaste aree a verde a difesa dell'ambiente, mentre il consumo di suolo per opere di urbanizzazione, soprattutto in Lombardia, continua a bruciare ettari ed ettari di terreno ogni anno. Ecco allora i suggerimenti che Confagricoltura ha rivolto al governo per interventi a lungo termine. Modificare anzitutto il piano di politica agricola europea appena messo a punto ed incentivare nello stesso tempo la produzione nazionale di mais, recuperando le quote perse in 15 anni. Nel frattempo ricorrere ad altri mercati esteri importando il mais e la soia che ci servono, scelte immediate che costano ma dalle quali dipende il futuro dell'agricoltura della pianura padana. начattava all'agricoltura di unità del paese infimisa